Ciao amici, secondo Rossi Ficano, questo è un concorso internazionale del libro, una soddisfazione incredibile per i romanzi, tra centinaia di conflitti, non me lo sarei mai aspettato. Ultimo abbraccio, oggi sono veramente commosso, ringrazio tutto il mondo per avermi accoggiato in questi mesi, per una ragione più bella della mia vita.